salve a tutti amici di youtube benvenuti e bentornati sul mio canale innanzitutto vi chiedo di iscrivervi al canale attivare le notifiche mettete un bel mi piace di condividere il video se pensate che possa essere utile o anche interessante e oggi si ritorna a parlare di dtt tv della serie a perché sky un paio di giorni fa si è giudicata il pacchetto numero 2 quello che era ancora in ballo per la trasmissione in italia del prossimo triennio delle partite della serie a pacchetto al quanto discusso sky aveva fatto ricorso contro da son e beh in lega ha dovuto c'è un compromesso ha ritirato quello che era il suo ricorso e in lega hanno accettato quella che era l'offerta di sky per il prossimo triennio 2021 2024 quindi sky trasmetterà tre partite per ogni turno di campionato un po come ha fatto da son però non sono le stesse fasce orali di da son trasmetterà le partite del sabato sera trasmetterà la partita del lunch time della domenica ore 12 e 30 e quella del lunedì sera quindi sabato sera domenica pranzo e lunedì sera mentre invece da son aveva sabato sera lunch time della domenica è una delle partite delle tre della domenica si è arrivato come ho detto questo grazie anche a un compromesso quindi rimane la serie a su sky anche se in forma minore sky che si è conquistata anche in co esclusiva quella che è la serie b anche se attualmente è la prima segnataria della della serie b compresi play out e play off per il prossimo triennio perché comunque ci devono essere anche altre manifestazioni di interesse però fino adesso c'è solamente sky sta trattando per la serie c poi c'è da dire che per il prossimo triennio ai diritti della europa league champions league conference league la neonata competizione europea poi c'è anche da sottolineare che si conferma la bundesliga si conferma la premier league ma ritorna in casa sky anche la league anna il campionato francese quindi traslocano da da son la serie b e la league anna saranno disponibili su sky tutti i match di euro 20 20 più uno quindi gli europei di calcio oltre a tutto quello che l'offerta sportiva quindi la moto gp la formula 1 l'emba il golf insomma una bella offerta sportiva corposa parlo di questo neanche lavorassi per sky parlo di questo perché c'è stata un po di confusione e anche un po di preoccupazione per il fatto che da son si è aggiudicata i diritti dei tutta quanta la serie a bisogna dire che non si è nuovi a cambiamenti basti pensare che tre stagioni fa abbiamo dovuto fare i conti con un nuovo soggetto ovvero da son che ha portato un'innovazione nel modo di rifluizione della della televisione chissà adesso da son e team l'accordo che troveranno per poter garantire la trasmissione di tutti quanti i match per ogni giornata del campionato di serie a ma staremo a vedere ancora prima vi ricordate che ci sono state stagioni in cui i criteri di assegnazione dei diritti televisivi della trasmissione campionato di serie a erano alquanto differenti da oggi c'è stato il periodo in cui si assegnavano i diritti per singola squadra quindi il napoli ad esempio la juventus erano con quella che allora era tele più oggi sky e altre squadre sono romo lazio erano con 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 stream o poi dopo media set ma se andiamo ancora indietro nel tempo addirittura agli inizi della pay tv e all'inizio dei posticipi e anticipi di calcio si vendevano gli abbonamenti per poter vedere il calcio in tv per singola squadra per la stagione ma soprattutto chi ad esempio era residente a napoli poteva vedere solamente le partite anche se veniva fruito tramite satellite solamente le partite del napoli in trasferta e non in casa attenzione per vedere le partite esempio della propria squadra del cuore faccio esempio il napoli che sono tifoso del napoli bisognava essere residenti fuori dalla regione di riferimento quindi se io ero residente nel Lazio potevo avere l'abbonamento per le trasferte e per le partite in casa ma essendo residente in campania scendiendo il napoli potevo vedere solamente le partite in trasferta insomma un bel caos abbiamo vissuto negli anni per i criteri di attribuzione le fasce orari anticipi posticipi una volta esisteva solamente il posticipo di della domenica della serie a prezzi e considerazioni ancora non c'è una posizione ufficiale da parte di da zone su quello che sarà la tariffa per il prossimo triennio bisogna dire una cosa esempio in germania qua facciamo un po di focus in germania sono passati da un'offerta 999 a un'offerta 11 99 con tutta quanta la serie a ma non solo c'è la bundesliga in co esclusiva c'è tutta l'europa league c'è tutta la champions league c'è l'nba insomma bisogna vedere da sono che cosa offrirà se si focalizzerà in italia esclusivamente o quasi sulla serie a da zona la moto gp in co esclusiva oppure alla possibilità di trasmissione di eurosport milan channel inter channel bisognerà vedere che politiche commerciali vorrà vorrà effettuare sicuramente dovrà tenere presente due parametri di riferimento il primo è il proprio competitor che è sky e da quel punto di vista a due pacchetti che hanno lo stesso prezzo il pacchetto calcio e il pacchetto sport che a questo punto per la maggior parte dei dei appassionati di calcio su sky diventerà interessante il pacchetto sport non tanto il pacchetto calcio perché il pacchetto sport permette di accedere a champions league europa league in modalità smart costa 16 euro al mese in modalità open 20 euro al mese dall'altra parte deve fare i conti con il mercato dell'illegale che sebbene alla luce di tante indagini vengono chiusi tanti server però il cosiddetto pezzotto comunque rimane sul mercato e bisogna confrontarsi nell'ordine di circa 10 12 euro al mese quindi qual è il prezzo giusto che da son dovrebbe applicare io ho sentito dei prezzi come 30 euro 25 per me sono dei costi che per la sola serie a non sono minimamente comprensibili da sono se vuole un modello a mio avviso sostenibile competitivo dovrebbe puntare su una offerta a circa 15 17 euro non di più fatemi sapere che cosa ne pensate al riguardo nuova rivoluzione per gli appassionati di calcio della serie a se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale attivate le notifiche mettete un bel mi piace condividete il video se pensate che possa essere utile e interessante noi ci vediamo al prossimo video grazie 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 per le visualizzazioni per le iscrizioni io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao